Riproduci Input Penna è una delle nuove funzionalità incluse nell'abbonamento Office 365 che permette di interagire con un documento Word direttamente con lo schermo touch. Per sfruttare la funzione andiamo su disegno, selezioniamo la nostra penna, eventualmente andiamo a modificare il tratto o la dimensione e possiamo andare a operare direttamente sul testo. Quindi per esempio possiamo dire che questa parte deve avere un font più grande e magari vogliamo anche dire che la foto deve essere ingrandita. Ok, per riprodurre tutto quello che ho appena disegnato sul testo mi basta cliccare su Riproduci Input Penna e potrò vedere in ordine cronologico tutto quello che ho segnato sul foglio. La funzionalità è inclusa anche in Excel, PowerPoint e OneNote. La riproduzione di ciò che ho disegnato può eventualmente essere riprodotta cliccando Play o eventualmente essere riguardata passaggio dopo passaggio utilizzando gli appositi tasti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.